Attendo la sentenza di questo processo molto lungo, 5 anni, io sono stato sentito per due anni in dibattimento, dal 2011 al 2013, ho ricostruito vicende gravissime e mi auguro che la sentenza possa ricostruire un pezzo di storia e di verità. La Procura della Repubblica nella requisitoria ha riconosciuto che lo scippo istituzionale di due inchieste che avrebbero fatto luce su fatti gravissimi accaduti nel nostro Paese, Guainotte e Poseidone, furono prezzo di corruzione, che credo sia uno dei reati più gravi per un magistrato e ancora più grave che furono, ad avviso della Procura, commessi dai vertici degli uffici giudiziari nei quali io lavoravo, cioè coloro che mi dovevano guardare le spalle e tutelare in concorso con esponenti politici e professionisti. Attendo però la sentenza perché secondo me è un passo importante verso la verità, seppur con molto ritardo ma l'attendo veramente con tanta fiducia e tanta sete di giustizia. Grazie. 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 Grazie.